la decisione, il garante della privacy di dare un ultimatum a OpenAI su un'altra base di riflessione che è una base giuridica, cioè OpenAI ha raccolto tutti questi dati non solo appunto, come vi dicevo, leggendosi riviste, giornali eccetera, ma anche valutando quello che noi produciamo su internet quindi ha fatto a strascico una cattura dei nostri dati personali senza chiederci il permesso la macchina dovrebbe essere viedata ai minimi di 13 anni e non c'è nessuno strumento di controllo e il terzo punto è che spesso appunto ci sono notizie inesatte, ma il garante non è che valuta l'esattezza, valuta il fatto che se su di me hanno attribuito libri che non ho mai scritto sbagliando data di nascita, allora dice siccome la tua identità, i tuoi dati personali sono anche legati alla vericità degli stessi non essendo possibile garantire una vericità dei dati miei personali allora questo è un motivo di violazione dei dati personali quindi su questa base di questi tre motivi ha dato un ultimato un pena, una multa da 20 milioni di euro o 4% del fatturato globale e OpenAI non si è fatta ripeto due volte come sapete tagliato e quindi da ieri non è più possibile andare su anche se poi l'illusione cioè molti c'hanno le WPN tutti sono ripartiti oppure quello che ti dicevo prima Bing attinge a GPT4 e io gli ho chiesto al garante perché Bing non l'avete chiuso lui mi ha risposto perché Bing oltre a darti una risposta ti mette anche le fonti ti dice Massimo Cerofolini è un giornalista l'ho scoperto su Wikipedia su questo sito qua sulla pagina Facebook ti dà le fonti e quindi ti dice perché arriva una certa conclusione e quindi ha ritenuto opinabilmente ovviamente perché insomma su questa cosa potremmo discuterne per ore che non è sufficiente come garanzia di rispetto dei dati personali